Il primo Consiglio Comunale di Lanciano è stato convocato dal Sindaco Mario Pupillo per il 15 giugno alle ore 18. A presidere la sise civica fino all'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale sarà il consigliere più anziano, Maglio D'Ortona, il candidato con la maggiore cifra individuale, ovvero i voti di lista e il PDL in questo caso aumentati dei voti di preferenza. Nella seduta di insediamento del Consiglio il Sindaco Mario Pupillo presterà giuramento solenne di osservare lealmente la Costituzione italiana e poi si procederà all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale. Per la carica è ormai acclarato dal turno di ballottaggio il nome di Donato Difonzo del Polo Civico Frentano. Il Vice Sindaco, come preannunciato nel corso della diretta di Telemax dedicata allo spoglio del secondo turno, sarà Pino Valente, sempre del Polo Civico, con delega alle attività produttive. Domani mattina saranno annunciati alla stampa i nomi della nuova giunta, che sarà composta da sette assessori, come previsto dalla legge 42-2010, che per le città con più di 30.000 abitanti ha ridotto il numero dei consiglieri comunali da 30 a 24 e dunque anche gli assessori. Le anticipazioni di nomi e deleghe, Pasquale Sasso del PD all'urbanistica, Valentino Di Campli del PD alle finanze, Dora Bendotti li sta lanciando in comune alle politiche sociali, Antonio Di Naccio, Polo Civico ai lavori pubblici, Evandro Tascione, Polo Civico all'ambiente e l'esterno dovrebbe essere Marcello Dovidio, presidente dell'Associazione L'Altritalia, con delega all'istruzione. La seduta di insediamento del Consiglio Comunale di Lanciano sarà seguita in diretta a TV da Telemax. Euroopatra